In pochi giorni, anzi sarebbe più corretto dire in poche notti, sono stati ben tre gli esercizi presi di mira dai ladri a Bolzano, tutti nel raggio di poco più di un chilometro. Dopo i colpi effettuati alla farmacia di Via del Ronco e al negozio Cento Vetrine in Via Torino, i malviventi sono entrati in azione la scorsa notte all'Optic Store di Via Torino 96. Sono entrate delle persone chiaramente ignote che hanno sfondato, come vedete, il vetro della porta d'ingresso e si sono introdotte all'interno del nostro negozio e hanno portato via l'incasso, i soldi che c'erano in cassa, alcuni occhiali e della merce che non è ancora quantificabile. In mattinata sul posto per le indagini si è portata la polizia scientifica che ha eseguito alcuni rilievi con l'obiettivo di risalire agli autori del furto tramite le impronte digitali. A quanto pare non si tratterebbe di ladri particolarmente esperti. No, non si tratta di un furto su commissione, soprattutto nel nostro settore, appunto i tecnici della scientifica ci hanno detto questo, che non si tratta di un furto su commissione. Tra i negozianti della zona ovviamente arregnano lo sconforto e la preoccupazione innanzi all'escalation di furti. Quello sicuramente, quello sicuramente, è preoccupante soprattutto a Bolzano. Grazie. 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 Grazie.